Abbiamo firmato un protocollo di intesa tra la nostra ICE e la loro agenzia omologa, abbiamo firmato un altro protocollo di intesa per la formazione delle forze di sicurezza palestinesi e a firmarlo per noi c'era l'arma dei carabinieri, un altro per la lotta al traffico illecito di beni culturali, poi ancora una dichiarazione congiunta in materia di cooperazione turistica, un altro per il riconoscimento dei titoli di studio e abbiamo anche firmato altri accordi sulla inclusione finanziaria in Palestina, sul rafforzamento integrato del sistema sanitario palestinese, sul rafforzamento della cooperazione tra i corpi diplomatici e un'altra interessante specifica intesa chiamata Pegase. Nel momento in cui riferiamo a voi di questi risultati è anche mio piacere dirvi che il nostro approccio è un approccio sempre orientato alla soluzione dei due stati, il nostro lavoro è un lavoro che va avanti e che anche questa mattina ha trovato nel comitato ministeriale congiunto una occasione straordinaria di avanzamento delle relazioni.